Senatore Pagnani, ha ascoltato le istanze che provengono dal mondo dell'industria, dell'artigianato, dell'artigianato di qualità? Si domanda semplificazione, sburocratizzazione, velocizzazione, investimenti. Il governo risponde a queste esigenze? Buonasera, quando Paolo Arrigoni mi ha segnalato questa manifestazione e mi ha chiesto se ero disposto a intervenire, io ho accettato intanto perché ero costretto, perché me lo chiedeva un senatore più anziano. E noi nella Lega abbiamo una mentalità giustamente militare, siamo una squadra organizzata con delle gerarchie, questo ci aiuta anche a sembrare un po' più seri quando andiamo in giro. Tra l'altro, scusate, per chiudo una parentesi, il mio ruolo non è quello di responsabile economico della Lega, che è del mio amico Claudio Borghi, io tengo i contatti con i famosi mercati, quelli che comandano sulle vostre vite, dopo ne parliamo. Poi ho accettato perché questa è una delle città più belle d'Italia, nonostante abbia subito che si può dire, non è, direi che è oggettivo, insomma, è bello anche il tempo oggi, ma anche col brutto tempo Ascoli è più bello. L'ho conosciuta tardi, devo dire, l'ho conosciuta quando ho cominciato ad avere amici da queste parti. Con uno condivido il fatto di avere un genitore marchigiano e l'altro toscano. Questo, nel mio caso, marchigiana è la mamma e nel caso di Guido Castelli invece è il papà. Vedo quindi tanti amici qua, insomma, in platea. Mi fa piacere ripropormi a loro nella veste, così, per loro forse un po' inconsueta, perché è la prima volta che ci vediamo da quando è successo di senatore della Repubblica e presidente della sesta commissione del Senato. La sesta commissione è quella che si occupa di banche e di tasse. Quindi, praticamente, di tutto quello di cui abbiamo parlato finora, a grandi linee, il presidente di Confindustria ha parlato un po' più di difficoltà con il sistema finanziario, qui si è parlato un po' più di difficoltà con la burocrazia e quindi con il sistema fiscale. Quindi, per me c'erano tre motivi, oltre all'ordine, diciamo, di Paolo, di dire, qua, motivi piacevoli, ma credo che nessuna cosa possa essere tanto piacevole per un politico. Io non lo so perché lo sono da poco, insomma, ho avuto molte soddisfazioni in questi pochi mesi di attività, ma nessuna cosa possa essere più piacevole quanto quella che sto per fare, cioè dirvi che abbiamo fatto una campagna elettorale facendovi delle promesse e vi abbiamo dimostrato due giorni fa che le stiamo mantenendo con il tempo. Certo, naturalmente nessuno si aspettava, visto che i nostri elettori, cioè alcuni o tutti, non lo so, voi, sono molto migliori, devo dirlo, in questo momento della nostra opposizione, insomma, nessuno credo si aspettasse che noi in sei mesi, che poi non ho capito come li calcolano questi sei mesi, dopo magari ne parliamo di come si calcolano i mesi in politica, no? In sei mesi facessimo un programma per il quale ci eravamo dati cinque anni sapendo che staremo qui per vent'anni, insomma, ci rassicurano in questo le nostre opposizioni. Abbiamo fatto quello che ritenevamo di dover fare e al di là del contenuto specifico della manovra su cui magari su alcune articolazioni, poi interveniamo anche su alcune articolazioni del mio lavoro, su come io, che non sono il governo, ma il Parlamento, sto cercando di intervenire. Vorrei dire che la cosa più importante che abbiamo fatto è stato a dire che l'Italia esiste, esiste, e quindi esiste anche Ascoli, d'accordo? Non è banale andare in Europa a dire che l'Italia esiste. La storia che ha raccontato Enrico, uno dei tanti amici che appunto lo ha ricordato lui, insomma, che ho conosciuto, che ha avuto un'attenzione per il lavoro di divulgazione che stavo facendo tanti anni fa. La storia che raccontava Enrico è una tipica storia di inesistenza dell'Italia sui tavoli europei dove la incapacità di far sentire la propria voce determina dei danni economici che potrebbero essere evitati semplicemente per subalternità verso altri interessi. qui oggi non piove, se piovesse credo che pioverebbe acqua, su Roma voi sapete che piovono legion d'onore, cioè una grandine di legion d'onore. Ogni due per tre c'è un politico del PD o un giornalista del PD che viene insegnato di onorificenze da stati esteri. Questo vorrà pur dire qualcosa di chi avrà fatto gli interessi quel signore. Forse anche i nostri, ma sicuramente anche quelli altrui. E questo è un pezzo del problema che stiamo cercando di risolvere. Non sono il governo, conosco qualcuno che sta al governo, due o tre amici ce li ho, quindi se avete cose da dirmi poi gliele racconto. Vi dico quello che sto facendo io. Allora, io mi sto occupando del sistema bancario e dell'Unione bancaria. Unione bancaria è un progetto europeo che conosciamo poco, ma che ci riguarda molto. L'ultimo pezzo di questo progetto riguarda i cosiddetti crediti in sofferenza. Ve la stringo molto rapidamente. Quello che vogliono sono le nostre case sostanzialmente, cioè le garanzie, loro lo chiamano collaterale perché non sanno più dire garanzia. Se sentite dire collaterale alla radio significa garanzia, collaterale reale significa le vostre case poste a garanzia dei mutui, vogliono quelle e quindi chiedono di poterle avere senza passare per i tribunali e di poterle avere in fretta. E se avete dei crediti, che questi crediti sono ceduti a qualcuno in modo che voi non sappiate più chi è il vostro creditore. E come è successo a un mio lettore, vi arrivi un giorno un bell'atto a casa di qualcuno che non conoscete, che vi chiede 40.000 euro per un debito che avevate fatto e magari i vostri genitori, magari anche ripagato, e se non siete sufficientemente maniaci da conservare tutte le carte, passate un bruttissimo quarto d'ora. e forse dovete anche pagare dei soldi che magari non dovevate pagare, o anche sì, però stiamo andando verso questo. Sono tutte cose molto belle, se voi sentite come le raccontano, perché bisogna creare un mercato secondario delle sofferenze affinché il fervelio qua e là, però significa questo. Quindi la settimana prossima cominciamo a parlare di questo. E cominciamo anche a parlare di un'altra cosa nella mia commissione, della commissione di inchiesta sulle banche, perché le marche hanno avuto una delle famose quattro banche salvate. Da toscano, cioè da persona che non ama che gli altri gli spieghino come deve parlare e che cos'è la lingua italiana, perdonatemi, è un atto di superbia, il Signore mi punirà il più tardi possibile, ho un po' polemizzato con una cosa che si chiama Accademia della Crusca e che ultimamente era, diciamo così, molto allineata con una certa propaganda di sinistra, che diceva che non si deve dire bail-in ma salvataggio dall'interno, no, si deve dire esproprio, le parole ci sono, usiamole. I risparmiatori sono stati espropriati e ora che grazie al sostegno di voi elettori, di alcuni di voi, altri magari, no, di amici come Enrico, sto dove sto e mi devono stare a sentire e mi dicono anche delle cose che prima non mi avrebbero detto, dentro al PD, le teste pensanti, perché ce ne sono ovunque, quindi perfino nel PD, vengono a dirti che quella è stata una grande scemenza e che lì si sarebbe dovuto dire no all'Europa, si sarebbero dovute salvare le banche con i soldi del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e si sarebbero dovute aspettare serenamente la procedura di infrazione, che poi avremmo pagato con la nota procedura del Marchese del Grillo, ad Aronne Piperno, non so se ve le ricordate, io i soldi non li caccio e tu non li pigli, perché funziona così, perché siamo l'Italia. Noi eravamo qui, prima di loro, con tutto il rispetto per i Frisoni, i Turingi, i Normanni, gli Armagnacchi, noi eravamo qui prima di loro. Sta roba, quando questa roba era qui, là c'erano ancora le simpatiche tende di feltro, diciamocelo, con rispetto per il feltro ovviamente, però diciamocelo, stanno così le cose. Quindi mi occuperò di questo tipo e faremo una bella commissione di inchiesta, che sarà incardinata nella mia commissione, per capire come mai sono stati fatti errori di quella portata, che hanno distrutto interi territori. Un'altra cosa di cui ci stiamo occupando è un'indagine sulla semplificazione del rapporto fra fisco e contribuente. Io il fisco l'ho subito come tutti voi, lo sto studiando adesso perché è il mio dovere farlo, nella mia posizione. Per me subire il fisco è stata una cosa particolarmente semplice perché da dipendente, diciamo così, ricevevo la metà di un ipotetico lordo che non ho mai visto, quindi non ti fa neanche male, ti arrivano pochi soldi, sono quelli e fine. Quando ho capito, cominciando, vedendo l'esperienza intanto di mia moglie che è un'artigiana, e poi ricevendo le mille sollecitazioni dal territorio e anche dalle associazioni di categoria, anche dagli stessi consulenti e dei commercialisti, quando ho capito che inferno è la vita del piccolo imprenditore, certo là ci siamo posti un problema. Quando vengono criticate alcune proposte di questo governo, come per esempio la flat tax, anche dimenticando che personaggi non esattamente di destra come Vincenzo Visco avevano fatto proposte molto simili non più tardi di 17 anni fa, quindi roba che è ancora in giro, non si capisce forse una cosa fondamentale, che il primo problema del fisco non è neanche tanto quanti soldi gli diamo allo Stato, cioè a noi, poi vediamo per fare cosa. Il vero problema è quanto è complicato darghieli e quanto è umiliante essere sempre considerati pregiudizialmente dalla parte del torto. Ecco, noi con questo tipo di atteggiamento vorremmo veramente chiudere. Questo per rispondere a... Senatore, allora una cosa, visto che prima parlate di opposizione, no? A noi sembra che l'opposizione adesso a questo governo fondamentalmente in Italia la faccia l'informazione. Cioè, noi siamo in una condizione in cui abbiamo un partito democratico che litiga un giorno sì e l'altro pure. Il resto delle forze che non fanno parte del governo, che saltuariamente sono d'accordo con le politiche del governo, talvolta sì, talvolta no. Ma la vera opposizione al governo Lega 5 Stelle lo sta facendo l'informazione, lo fanno i media. Io credo che mai nella storia d'Italia si sia assistito ad una lapidazione di un provvedimento governativo, o tra l'altro ancora da scoprire, perché tante cose non si sanno. Pensiamo al piano di investimenti programmato, superiore a 100 miliardi. È una cosa che dovrebbe farci tutti contenti rispetto alle politiche delle scorse legislature. Pensare di mantenere un deficit a livello del 2,4% per tre anni, quando prima si tendeva allo zero, quindi non solo a realizzare l'avanzo primario, ma addirittura a farne un avanzo per 70-80 miliardi l'anno. Come si giustifica questa cosa? Vuol dire che allora questa politica che il governo sta facendo è una politica giusta? Perché tutti questi nemici, schierati in fila, con la baionetta in mano, ad impallinare il primo che osa dire che questo provvedimento è giusto, io qui mi sono insegnato alcune cose sul DEF. L'eliminazione della clausola di salvaguardia sull'IVA. Se noi abbassiamo l'IVA i consumi aumentano, se noi l'alziamo c'è da aspettarsi che diminuiscano. Il settore industriale e commerciale ha un problema di consumi, la spesa. Noi ancora oggi non abbiamo un livello di spesa paragonabile a quello del livello pre-crisi. Una domanda ce la dobbiamo fare. Eppure il credito al consumo è aumentato moltissimo. Senza quel credito i consumi sarebbero ancora più bassi. Quindi ci siamo indebitati per non tornare a quei livelli di consumo. Il consumo dei privati è il reddito, è l'utile per le aziende che poi lo reinvestono, lo distribuiscono. Il risparmio degli italiani è accennato. 1,5 miliardi stanziati per le famiglie truffate dalle banche. Dovrebbe essere un provvedimento che le persone si dovrebbero alzare in piedi e ringraziare a chi è venuto in mente. Lasciamo perdere poi le pensioni minimi a 780 euro dal primo di gennaio, come il reddito di cittadinanza che è un po' più complicato perché prima si devono mettere a posto o cominciare a mettere a posto i centri per l'impiego. Io mi domando, ma quando questi giornalisti presentano così catastroficamente questo provvedimento? Attraverso quale lente lo guardano? Un giornalista americano disse una volta una fase framosa, è difficile capire qualcosa se il tuo stipendio dipende da non capirla. Con questo voglio dire che naturalmente i media hanno e hanno diritto di avere una linea editoriale, però io non vi nasconderò che già quando ero in una posizione di relativa debolezza, avendo dalla mia parte non un ruolo ma solo la forza delle idee, non ho mai nascosto a nessuno, chi c'era lo sa, che ritenevo l'assetto dei media, in particolare in questo paese, un elemento di effettivo pericolo per una reale democrazia. Perché il problema è che la democrazia si nutre di consapevolezza e noi veniamo continuamente seppelliti da una serie di favole. Io, con molta umiltà, non interessa, non è neanche elegante parlare di sé, però io sono diventato senatore e sono grato alla stampa italiana di essere quella che è perché mi ha aiutato a diventare senatore in un modo molto banale, dicendo i numeri veri. Ricorderete, perché sta ancora su D'Agospia, se voi ve lo cercate un titolo, D'Agospia, un economista al Corriere, ricorderete quando intervenendo a Medias e TG Confed24 feci rettificare al Corriere della Sera un dato errato fornito in prima pagina, il dato sulla disoccupazione. Era un errore? Secondo me no, lo dico proprio francamente, era semplicemente un progetto di distorsione della realtà. Vedete, qui è in atto una strategia abbastanza strana che riguarda il passato e il futuro. Per quel che riguarda il passato vogliono farvi capire che quando gli italiani si autodeterminavano al di fuori di una serie di regole su cui si potrebbe discutere, qui era tutto terrorismo, morte e distruzione. In realtà era il periodo nel quale i nostri genitori costruivano le case nelle quali siamo. Quindi insomma, sì certo c'era anche il terrorismo, c'erano anche i terremoti, però poi le case si ricostruivano, adesso no. Insomma, mettiamola così. Circa il futuro, io in questi giorni sto veramente trasecolando, cioè questa storia che noi adesso lasceremo un enorme debito ai nostri figli. Allora, vi dico due cose banali. Cosa lasceremo noi ai nostri figli? Noi ai nostri figli non lasceremo il debito di Conte, del quale poi vi parlo. Noi una cosa sicuramente la lasciamo ai nostri figli, ed è l'austerità di Berlusconi, di Monti e dei suoi successori. Perché quella ha determinato un buco di oltre 400 miliardi di euro, come certificava il DEF di Padoan due anni fa, tale per cui 15 anni di storia economica di questo paese sono stati persi. Che vuol dire? Vuol dire che la capacità di spesa di cui parlava in particolare il moderatore, la capacità di spesa degli italiani, i soldi che abbiamo in tasca, oggi, non sono ancora tornati al livello del 2008, in media. Forse nel 2023 ci arriveremo ad avere quello che avevamo nel 2008, come livello di benessere medio, come livello di reddito medio. Nel frattempo il resto del mondo è andato avanti. I nostri figli sono stati impoveriti da quelli che ci hanno detto di fare le politiche giuste, e infatti se ne sono andati all'estero. Ma che problema c'era per chi faceva queste politiche? Vanno all'estero i giovani italiani? E ci sono tanti baldigiovani da tutto il resto del mondo che arrivano qui, con alcuni piccoli danni collaterali che sapete che questa regione ha subito. Non voglio fare nomi perché non voglio essere troppo populista, ma ci siamo capiti. Famela. Va bene? Ecco, allora, cioè, che progetto politico è quello che deliberatamente ti impoverisce ora, perché così poi domani i tuoi figli saranno più ricchi, e nel frattempo i tuoi figli se ne vanno, vengono sostituiti da degli esuberanti cittadini di altri paesi, e noi ci dobbiamo preoccupare di una finanziaria che, carte alla mano, porterà comunque a una diminuzione l'anno prossimo del rapporto di Bidopil, quando Monti lo ha fatto crescere di 13 punti percentuali in un anno. Sentite. Io sono contento di avere questa opposizione, adesso perché così sto tranquillo, mi devo solo preoccupare dello spread, che è una roba di cui si occupano persone con cui se ci vai e ci parli, insomma, le cose. Però spero, io nella mia commissione sto cercando di aiutare il BD, di aiutare le opposizioni, perché il partito unico non è una buona cosa, ma se questi si vogliono suicidare, d'altra parte lo stesso Brodi, parlando del progetto europeo, disse che nella vita esiste anche l'irrazionalità, nella vita esiste anche il suicidio. Io non sono d'accordo, ricorderete tutti quell'intervento televisivo, cioè, nel senso, il BD lo sta seguendo su questa strada, l'ha seguito sull'Europa prima e sul suicidio dopo. Adesso, diciamo, cerchiamo... Il problema è che buona parte di quegli poteri economici e di quegli intellettuali egemonizzano ancora la stampa. Pace. Anche lì, come vedete, i giornali stanno chiudendo uno dietro l'altro, la gente si è stancata di essere presa in giro. Secondo me è un dato positivo. Ora ho un'altra domanda che volevo fare. Nel contratto Lega 5 Stelle, non ricordo a che punto... Se le domande sono solo per me, parlo di meno, perché vorrei lasciare... No, volevo approfittare. Scusi se è lungo il mestiere, ma volevo capire come... Volevo approfittare. Volevo sapere. C'erano, erano previste le banche pubbliche per gli investimenti. Però nel DEF, cioè nel DEF, in quello che è trapelato, non c'è nulla a riguardo. C'era un accenno a Monti dei Paschi, però è rimasto tutto sulla carta, oppure qualcosa si muove e ci si sta muovendo a livello parlamentare o governativo in questo senso? Allora, in teoria, se succederà qualcosa di concreto, dovrò saperlo, perché dovrà passare dal mio tavolo. L'idea, sapete qual è? È quella di far svolgere a Cassa Depositi e Prestiti un ruolo più strategico nella difesa degli interessi del Paese, per evitare che altri pezzi del nostro sistema industriale vengano svenduti. D'altra parte, non c'è praticamente nessun dibattito di politica industriale in Italia in cui Cassa Depositi e Prestiti non venga comunque a un certo punto nominata. Adesso bisognerà trovare una strategia credibile e complessiva per capire quali sono i suoi margini di intervento e che tipo di direzione vogliamo dargli. Questo è un discorso che però esula dal momento attuale. Il momento attuale è quello in cui abbiamo definito la politica economica del governo nei prossimi tre anni, poi naturalmente c'è bisogno di una riforma di tutta una serie di istituzioni di questo Paese e del sistema finanziario in particolare. Ho fatto questa domanda perché riagganciandomi a quello di cui parla l'informazione e i media in genere sono stati bruciati 35 miliardi questo debito che finirà sulle spalle dei figli lo spread cioè una banca pubblica potrebbe anche servire come prestatore di ottimistanza nel caso ci sono mille e uno dettagli tecnici con i quali potrei annoiarvi fino a questa notte a partire dal meccanismo di collocamento in assa dei titoli di Stato che in Italia è del tutto suicida perché colloca tutti i titoli al prezzo più caro e lo lascia per lo Stato insomma ci sono mille e una cose che anche mettere i cct a posto del BTP però su una cosa vorrei attirare la vostra attenzione perché è abbastanza importante io provo a farlo con semplicità a quanto pare dicono che uno Stato diciamo non debba essere come una famiglia vabbè io non conosco molte persone che abbiano acquistato il proprio appartamento in contanti ci siamo? allora se una persona che ha un reddito non so un 50.000 può fare un mutuo per comprarsi un 200.000 di appartamenti il suo rapporto debito PIL è del 400% quindi se lo Stato fosse come una famiglia l'Italia che ha solo il 130 sarebbe benissimo ci siamo? in realtà lo Stato non è come una famiglia chi vi dice che lo Stato è come una famiglia è un volenteroso diciamo dilettante che o un pericoloso furbo scansatelo cambiate canale guardate cartoni animatiche è meglio facciamo un esperimento immaginiamo che sia veramente come dicono quelli che vogliono prenderci per i fondelli e che i conti dello Stato debbano sempre essere in equilibrio conti dello Stato sempre in equilibrio significa una cosa molto semplice che il debito pubblico sarebbe zero che meraviglia meraviglia beh dipende intanto per un investitore in quelle condizioni l'unica possibilità di allocare i risparmi sarebbe comprare titoli privati perché perché i titoli pubblici non ci sarebbero più l'investimento privato è un pochino più rischioso dell'investimento pubblico l'investimento pubblico è garantito dallo Stato il titolo pubblico che se va male se la può prendere con i cittadini tassandoli o emettendo monita sono metodi che potrebbe usare il privato non lo può fare il privato se tassa un altro è borseggio o furto e se emette moneta ahimè diventa un falsario quindi sono fatti specie penali quindi diciamo che mondo ha in mente questa gente che parla di un bilancio esattamente a zero ha in mente un mondo nel quale voi siete costretti a dare tutti i vostri risparmi solo alla finanza privata è il mondo che volete è un mondo stabile è il mondo americano dove se non sei assicurato non puoi non solo essere curato in un ospedale ma non puoi neanche mandare i figli in una scuola decente e non puoi neanche avere una pensione che poi non hai perché siccome la finanza privata è instabile tu metti soldi da parte li dai a uno quello salta per aria e tu rimani senza pensione perché lo Stato è brutto e cattivo allora io dico sempre scusate se mi volete dire che io dovevo vivere in America essendo nato in Europa me lo dovevate dire quando avevo 12 anni avrei fatto certe cose a 18 anni avrei subito comprato un'arma perché lì si può avrei fatto un certo tipo di piano di risparmio mi sarei comportato in un certo modo con i miei colleghi eliminandoli d'accordo perché è un mondo molto competitivo eccetera 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 noi siamo vissuti in un mondo organizzato diversamente dove c'è uno Stato che garantisce un patto sociale diverso quindi chi vi parla di questo mondo a zero deficit e zero debito forse non ha capito esattamente qual è il patto sociale che ci lega dal quale noi desideriamo essere legati se poi qualcuno desidera armarsi e fare la guerra di tutti contro tutti il mondo è pieno dalla Somalia agli Stati Uniti il posto è pieno di paradisi del liberismo ognuno si scelga il suo e ci vada ma non dica agli italiani cosa devono fare a casa loro volevo riprendere un attimo la logica che ci ha portato qui oggi cioè cercare di esporre quelle che sono le istanze del mondo imprenditoriale nei confronti della politica mondo imprenditoriale che soprattutto nella nostra zona punta molto sul livello dell'esportazione però noi sappiamo che non si può esportare all'infinito perché esiste un vincolo determinato proprio un vincolo esterno che oltre un certo limite impedisce la crescita delle esportazioni oppure produce delle situazioni per cui alla fine il paese comunque acquisisce un debito che in qualche modo poi creerà dei problemi volevo chiedere a professore ma è possibile continuare a a immaginare un mondo nel quale l'unico mezzo per far entrare moneta all'interno di uno Stato è quello legato all'esportazione cioè come si fa a giustificare un sistema paese dove la quantità di moneta di reale che entra è solo quella proveniente dalle esportazioni con lo Stato che fa due passi indietro e quindi il settore privato necessariamente si trova a dover far fronte a una mancanza strutturale non per fortuna adesso in qualche modo il DEF per esempio del governo va in una direzione opposta ma fino ad oggi è stato questo mantra dell'esportazione della crescita dell'internazionalizzazione a tutti i costi è esasperata è un qualcosa che si può pensare come un sistema che porta all'equilibrio oppure genera disequilibrio in se stessi ma guardate molto rapidamente qui fra l'altro sono fra due imprenditori io conosco Enrico so cosa fa non il presidente non so in che ramo operi nel lago alimentare è inutile che ci giriamo intorno cioè si può questo si può dire l'Italia è stata in questo momento no ma insomma potrebbe tornare ad essere abbastanza penalizzata dal cambio dell'euro e nonostante questo che comunque ha sdraiato tante imprese molte altre imprese sono ancora vitali e sono riuscite a sopravvivere proiettandosi all'estero perché fondamentalmente abbiamo una certa tendenza a fare meglio degli altri quello che facciamo all'estero piace siamo creativi e questo questo è un pezzo della storia l'altro pezzo della storia è che le imprese sono costrette a proiettarsi all'esterno perché quella cosa di cui vi parlavo prima quella austerità che effettivamente è il vero peso che noi lasciamo ai nostri figli cioè il fatto di averli resi di avergli tolto 15 anni di stipendio per il prossimo secolo probabilmente fa sì che in Italia circoli appunto pochi soldi e quindi gli imprenditori sono costretti a rivolgersi ai mercati dove i soldi ci sono che sono i soldi che sono i mercati esteri non c'è nulla che sia giusto totalmente o sbagliato totalmente in economia il punto però adesso qual è? è che noi siamo passati negli ultimi 30 anni attraverso una serie di crisi finanziarie alcune le ricorderete non so quella asiatica la Lehmann eccetera eccetera mai mai sorte in Italia sempre sorte all'estero se noi articoliamo la nostra economia su la nostra crescita sui soldi degli altri cioè sulle esportazioni sul fatto che gli altri comprino da noi se gli altri fanno come regolarmente accade un gran casino a casa loro io ho detto gran casino avrei dovuto dire crisi finanziaria scoppio di bolla speculativa un gran casino sostanzialmente per cui rimangono senza soldi noi a ricasco quanto più dipendiamo dalle esportazioni tanto più soffriamo il paese più fragile e infatti è nel panico dell'eurozona in questo momento non è l'Italia è la Germania perché la Germania ha un surplus con l'estero del 9% del pillice che bravi i tedeschi eh sì però questo significa che loro dipendono quasi interamente dalla domanda degli altri paesi quando dopo domani fra tre giorni fra due anni risalta una banca negli Stati Uniti o magari in Cina o magari in India e si riparte con loro saranno più colpiti di noi ovviamente poi diranno che è colpa nostra ma loro sono fatti così è il loro modo di dimostrarci il loro affetto insomma e va bene così allora che cosa voglio dire che la manovra che è stata fatta da questo governo attraverso misure come il reddito di cittadinanza in particolare ha anche un significato di assorbimento di questo tipo di shock perché rianimando la domanda interna evita questa eccessiva dipendenza dalla domanda estera dopodiché verso che mondo si dovrebbe andare verso un mondo di scambi equilibrati che non vuol dire autarchia avere la bilancia dei pagamenti in equilibrio non vuol dire che hai zero esportazioni e zero importazioni puoi anche avere millemila miliardi di esportazioni e millemila miliardi di importazioni i volumi di commercio ci sono l'importante è che siano equilibrati quello significa che tu non vuoi campare alle spalle degli altri che è quello che invece i tedeschi vogliono fare storicamente e che storicamente porta alle guerre ma noi presentiamo il DEF ma se se la commissione ci dice di no che facciamo abbiamo il piano B piano C piano D che facciamo? se la commissione ci dice di no dà almeno due dimostrazioni del perché il progetto europeo va valutato con un occhio critico perché intanto se dice di no alla prima manovra espansiva dopo tante manovre recessive di tagli di aumento dell'IMO dice io non voglio la crescita e voi siete convinti che prima delle elezioni europee la commissione vorrà fare questo? peraltro se volete aiutare come io voglio aiutare Enrico nella sua battaglia ricordatevi delle elezioni europee perché tutte le carte che ha lui con quell'orrendo bollo blu davanti che passano anche sulla mia di scrivania tutte quelle carte vengono fatte lassù ed è lassù che bisogna anche alterare gli equilibri politici la seconda cosa è che non ci darebbe un segnale di grande intelligenza attaccando noi la cosiddetta Europa che poi è l'Unione Europea che poi è la Germania che egemonizza in grande parte il progetto semplicemente perché in questo momento la Germania ha un problema che è quello della Brexit gli inglesi sono dei grandi acquirenti di vetture tedesche e la Germania non ha trovato niente di meglio da fare che punirli voi se vi entra qualcuno in azienda o nel vostro negozio non credo che lo pigliate a calci nel sedere questo è esattamente quello che la Germania vuole fare con l'Inghilterra ha un fronte aperto ora come ho già spiegato alla radio ieri i tedeschi hanno questo vizio di aprire tanti fronti insieme ma alla fine gli porta sfortuna quindi io non sono convintissimo che verrà aperta una procedura di infrazione se verrà aperta ci faranno la multa ci faranno sapere fra un anno quando la commissione sarà con un ben alto orientamento politico e noi avremo una ben altra forza nel paese quanto sarà la multa e noi probabilmente avremo i soldi per pagarla ma scusate ma secondo voi c'è costato di più fare l'esproprio dei risparmiatori di banca Marche quando l'abbiamo fatto o pagare due anni dopo un'ipotetica multa della signora Pestaglia 0,50 del PIL dello 0,50 la sanzione sì lo 0,50 grazie a tutti grazie a tutti